Nuovo episodio di Sfida Leai, nuovo ospite, e se avete visto la copertina e avete cliccato sul titolo di questo link, sapete che c'è Emma Alloro. Emanuele, Malloro, in arte, Emma Alloro. Anche lui, collega creator qua su YouTube, bravissimo storyteller, forse uno dei più bravi su YouTube Italia, l'ho sfidato a Sfida Leai. Quindi vediamo come sei l'è cavata a riconoscere le immagini vere e le immagini generate dall'intelligenza artificiale. Emma, io ti ho spiegato le regole in privato, le ridico velocemente per chi sta guardando il video da casa. Ti farò vedere delle coppie di immagini. In questa coppia di immagini mi devi dire quale, secondo te, è una fotografia fatta da un essere umano e quale invece è un'immagine generata dall'EI. Ogni tanto, per renderla un po' più difficile, ti posterò magari due fotografie oppure due immagini generate dall'EI. Parti in timer, è 15 secondi, alla fine del timer mi dai la tua risposta. Ovviamente invito chi sta guardando da casa a giocare con noi e a provare a indovinare così alla fine confrontiamo i punteggi. Allora, io attacco lo schermo e faccio partire la prima... Però per me è meglio non fare brutte figure, Raff. A quanto punti? Su dieci quanto ne vuoi azzeccare? Almeno la metà, spero. Cinque, vai. Ci diamo cinque come obiettivo, ci sta, mi piace. Allora, andiamo con la prima coppia. Vai. Ah, caspita. Ho 15 secondi? È nove in questo momento. È veramente... Beh, sulle foto macro è veramente difficile. Guarda, ti dico la B è reale, la 1 è AI. Beccata al primo colpo! Wow! Wow, 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 wow. Come mai sei andato proprio sicurissimo con la 1 che l'A era un AI? Cosa ti ha... Ho cercato di mettermi nei panni di uno che fa still life, queste fotografie macro sul food. Mi sembrava molto più carina e creativa mettere tre biscotti in pila. Invece ammassati in quel modo, non lo so, mi ha dato un feedback non proprio... Mi piace perché di solito gli altri ospiti vanno a cercare le imperfezioni, invece tu hai ragionato più nella costruzione dell'immagine. Cioè, dici, la costruzione A non mi sembra da essere umano. Bello, bello, bello. Sì, poi magari ci sono arrivato a culo. Comunque, andiamo avanti. Andiamo con la seconda coppia di immagini. Vai. Birra a sto giro. Direi la A è reale e la B è AI. A reale, B e AI? Sì. C'è una motivazione legata... Accettata anche questa. Due su due al momento. Vai. Ok. Dimmi perché. Ma, in AI il bokeh dietro è sempre un po'... È come se avessero una sorta di diaframma preimpostato di default. Poi, quel tramonto che si intravede, quella luce che si intravede sulla foto A, mi sembrava abbastanza reale. Anche la schiuma, insomma, ho guardato un po' di dettagli, quella... Cioè, la schiuma della A è più realistica della schiuma della B. Sì, mi ha dato un feedback. In effetti, anche la schiuma della B è abbastanza imperfetta da poterti sembrare reale. Sì, probabilmente il bokeh dietro mi ha dato molto... Bello, bello. Mi piace questo dettaglio. Oh, al momento sono due su due. Ti eri di sottovalutare? Due su due. Si vince. Nessun ospite ha beccato le prime due così, diciamo, in sequenza. Andiamo con la numero tre. Provo a fallirle. Fiori. Piante, cambiamo completamente il genere. Queste sembrano le fotocomparative degli smartphone. Infatti, vero. Sono veramente... Sono veramente... Cioè, è indistinguibile dire... Potrebbero essere entrambe fatte con le AI, queste. I fiori comunque sono un po' plasticosi. Sì, direi di sì, dai. Entrambe con le AI? Cazzarola, beccata pure la terza. Oh, questa era... Io ho queste... Quelle coppie uguali sono quelle un po' più infami. Ci cascano tutti. Invece ho beccato entrambe con le AI. Mi piace. Tra l'altro ho due autori diversi. Ma stessa tipologia di immagini. Mi sono allenato. Tra l'altro ho due autori diversi, ma stessa tipologia di immagini. Io metto sempre i credit, quindi chi ha generato queste immagini, se le vede nel mio video, sa che le ho prese da loro. Andiamo con il numero quattro. Fino ad ora, punteggio, perfetto. Mi dovevo impegnare di più, devo farlo più difficile. Vai! Rimaniamo sempre nella natura. Allora, vabbè, la B per me è assolutamente AI, a meno che non è una fotografia con quei... Con tra HDR un po' esagerate, esasperando luce e ombre. Però io direi A, reale, B e AI. A, reale, B e AI. C'è il primo errore di Eman Lore. Sono entrambe vere. Sì, sono entrambe vere. Sì, il B ha questo gioco, luci e ombre, un po' eccessi. Cioè, le ombre sono troppo su e gli altri sono troppo giù, quindi sembra molto HDR esagerata. Però sì, probabilmente... Guarda, quando l'ho vista, mentre cercavo foto di alberi, ho detto... No, questa sembra finta, sembra fatta dalle AI. Mo la metto perché questa è una di quelle che può far cadere qualcuno. E infatti la B era fatta da un umano. Come ha detto Breccia, in un'altra puntata di questo format, ha detto... Vabbè, semplicemente una foto fatta male, allora sto qua. Ah, sulla stessa? No, no, aveva beccato delle foto umane che l'hanno confuso e fatta dalle AI. E poi ho detto, no, è una foto. E lui ho detto, vabbè, allora è una foto di merda, semplicemente l'hanno fatta male. Comunque questo gioco mi fa impazzire perché siamo già arrivati al punto in cui è indistinguibile la tensione dalla realtà. Siamo già a quel momento. Anzi, io aspetto tra un anno la versione dello stesso gioco con Sora. Ti prego di invitarmi. Con i video, con i video. Non vedo l'ora di farla, con i video. Spezzoni di film e pezzi fatti con Sora. È la mia materia. Allora, siamo alla 5, siamo a metà. Vai. Essere umani. Wow, questi close up molto Steve McCurry. Beh, come faccio a dire se sono vero o finte? Sono incredibili entrambe. Allora, direi entrambe vere. Entrambe vere? Sì, ma potrebbero essere anche entrambe finte. E la B invece è un AI. La B è un AI. Incredibilmente dettagliata, ma è un AI. È un AI. Siamo a 3 su 5. Non male, hai ancora 5 coppie per rifarti. Dai, l'importante è la sufficiente. L'importante è arrivare a quello. Visto che siamo a metà, vi ricordo di mettere il like a questo video. Lo sapete, c'è sempre a metà della sfida un bel personaggino fatto con le AI. A sto giro abbiamo un mini T-Rex che vi ricorda di mettere il like a questo video. E alla fine però dirne pure il punteggio, mi raccomando. Ema, siamo alla coppia numero 6. Rimaniamo su esseri umani. La coppia numero 6. Oh, madonna. Cazzo no, sui volti veramente è impossibile, ragazzi. Allora io direi B e AI, a meno che non mi sfugge un personaggio di un film. Però no, i capelli mi sembrano molto videogiocosi. Quindi B e AI. La A secondo me è un cosplayer reale, quindi è una foto vera. Grande, azzeccato. Let's go. Quarto punto, quarto punto. A me la B ha impressionato. Cioè la B era veramente realistica. Veramente realistica. Cioè super super realistica. Veramente tanto. Cosa ti ha fatto dire subito che era un AI? Quello della B? Non so. Ho iniziato a guardare i capelli. Mi sembravano, mi davano quel feeling un po' troppo, o esageramente post prodotti, oppure semplicemente ricreati. Non erano naturali, in tutto l'effetto di naturalezza. Sì, non mi davano un grande effetto di naturalezza, esatto. Bel dettaglio, mi piace. Andiamo con la coppia numero 7. Vai, rimaniamo su esseri umani. Sui esseri umani bellissimi. Ah, che aspira, complesso. Allora, la B per quanto mi riguarda è reale, perché, non lo so, quelle scritte che stanno in mezzo ai capelli, quel tattoo, solitamente poi l'AI sballottola sempre i testi, non so per quale motivo, la A potrebbe essere finta, perché quell'auto che vedo alla sinistra della modella non mi ricordo, cioè non capisco se è una Cadillac, comunque un modello d'auto che non conosco. Direi A finta, B vera. Mazzata, mi piace pure con l'analisi. Beccata! Beccata! A finta, B vera. Mi piace anche il dettaglio sulla ricerca della macchina, siamo al quinto punto. Vai, coppia numero 8. Cambiamo genere, animali. Ah, cazzo, impossibile. Però dico A vera, B finta. La B mi sembra, non so, c'è qualcosa che non mi quadra su quel rosso, sul pappagallo, anche lo sfondo. Sì, io direi A finta, A vera, B finta, però potrebbero essere entrambe AI, però la definitiva è A vera, B finta. A vera, B finta. E invece sono tutte e due vere. Eh sì. No, tutte e due vere. Tutte e due vere. Ah, tutte e due vere. Ah, cazzo. Cosa ti ha fregato con la B? Eri molto convinto che fosse AI, la B? Sì, non capivo, mi sembrava molto sporca tutta la parte di rosso con le piume, c'era qualcosa che non mi quadrava, anche lo sfondo che era esageratamente un bokeh molto intenso, mi sembrava una delle solite ricostruzioni AI. Vabbè. Quegli sfondi un po', diciamo così, poco precisi che fa le AI. Le AI insiste molto sul bokeh, sullo sfondo, cioè ne mette proprio in abbondanza, non so se sono i visual artists stessi che poi impostano questi diaframmi apertissimi, però io quando vedo sfondi super sfocatissimi non so perché riconnetto a AI. Bella, bella osservazione. Quindi se fate immagini con le AI ricordatevi di sistemare questa cosa, così la rendete più realistica. Coppia numero nove, siamo alla penultima. rimaniamo su animali, vai. Uh, che bella. Caspita, la B è incredibile, sarebbe incredibile se fosse AI, quindi io sulla B vado proprio a mani basse dicendo che è una fotografia vera. La A ha altrettanto una bellissima pasta d'immagine, potrebbe tranquillamente servire anche la A, quindi, però la A, dico AI, AI, B vera. Ti sei corretto all'ultimo secondo e l'hai beccata. Sesto punto. Cosa ti ha fatto cambiare idea sul cane dell'A? Perché inizio stavi dicendo che è pure quella una foto, poi ho visto che è cambiato. Sì, perché mi sembrava un fotogramma slavato di un film con questa pasta d'immagine molto slavata. Non lo so, ho guardato un po' meglio il cane nel suo insieme, anche se mi sembra particolarmente realistico, però ho guardato il dettaglio della coda, a un certo punto non mi ha convinto più e quindi ho detto AI. Vero. La A infatti c'aveva sta grana molto molto partita, l'ho scelta proprio e poi l'ho detto ma quanto è bella, sembra, non so, una foto scattata o in Nord Europa o diversi decenni fa, mi dava questa sensazione qua. Siamo, oh, sei punti, sei su nove, non male. ultima coppia di immagini, la numero dieci, vai. Usti, vabbè, la B è assolutamente tassativamente AI, a meno che non è un fotografo still life che fa una post-produzione esagerata, però a quel punto dovresti rendere il gioco senza e l'A invece, entrambe AI, dai. Entrambe AI? Signori, c'è il settimo punto, bomba! Come hai un fotografo di still life? Sei andato dritto proprio sulla... Non ho capito? Dicevo, conoscevo un fotografo di still life che faceva queste fotografie sul food pazzesche che sembravano più finte che bere, dove lui metteva proprio con la siringhina le gocce per farla sembrare fresca, posizionava gli elementi, sporcava, e la B mi sembrava una delle sue foto. Solo che poi, non lo so, vedendo i dettagli, tipo la foglia, non so che pianta sia, anche il limone stesso, non mi sembrano coerenti al resto dell'immagine, al resto della luce, e quindi... Grande! Bomba! Sette su dieci, Emma, voi com'è andata? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. Oh, tu pensavi di farne cinque e invece ne ha fatto sette. Sei soddisfatto? Direi che la sacra dalla grande. Sono molto soddisfatto, sì, avevo un po' di paura di fare una figuraccia. Però dovresti dare anche i mezzi punti, no? Perché quando c'è il doppione AI... Me lo dicono sempre nei commenti. Ma se ne becco solo una delle due. È vero, è vero. Comunque, questo gioco è stupendo, ci fa, come ho detto prima, capire quanto sia diventato veramente complesso, riuscire a decifrare anche per un tecnico. Poi io non sono un fotografo di professione, sono un videomaker di professione, e quindi sulla materia video mi sentirei molto più disposto a rischiare per sgamare o meno sulle fotografie, magari che le ho sempre fatte un po' per hobby, c'era un po' più il rischio di sbagliare. Però chissà quale sarà veramente la direzione nei prossimi anni in termini proprio di fotorealismo, anche e soprattutto lato video. So che OpenAI ha provato a chiudere dei deal con Hollywood, non so se sono andati in porto. Lo sapremo, lo scopriremo. Sicuramente ci sono tanti registri che si stanno appassionando alla questione AI, e Paul Trillo, che è quello che ha fatto il video incredibile del TEDx, ha fatto anche quel video incredibile del videoclip musicale fatto con Sora, il primo videoclip musicale che Vimeo ha messo come Vimeo staff pick, la gente ha fatto un sacco di polemica. Paul Trillo aveva fatto già tantissima roba ancora prima, in tempi non sospetti, con Stable Diffusion. Aveva fatto questo video in un museo, video a Louvre, che si chiama Absolve, bellissimo. Comunque, sono del parere che la nuova frontiera dei registi, da qui a cinque anni, introdurrà l'intelligenza artificiale generativa lato video come elemento fondamentale del processo creativo, al pari di quello che oggi è fondamentale nel fare color correction o effetti visuali basic. Intelligenza artificiale sarà molto... Allora ti aspetto per la versione potenziata di questo gioco, la facciamo con Sora, no? Clip video reali e clip video fatto con Sora, e tu devi beccare quella vera e quella finta. È stupendo. Emma, grazie mille della disponibilità. Grazie di cuore per questo gioco e in bocca al lupo col tuo canale che seguo sempre, sono un mega fan e vediamo che succede. Ciao. Ciao. Come avete visto, Emma ne ha beccate 7 su 10. Tanta roba, sono veramente tante 7 su 10. Pensavo di essere impegnato tanto, quindi o mi sono impegnato poco, oppure Emma è molto molto forte. Voi quante ne avete beccate? Fatemi sapere nei commenti, scrivetemi tutti i dettagli che volete, oppure se non volete mi scrivete anche solo il numerino, va bene, anche solo il numerino. E poi soprattutto fatemi sapere chi vorreste come prossimi ospiti per questa sfida. E se non l'avete ancora visto, vi metto a schermo l'episodio numero 3 con Andrea Sciraolo, amico carissimo, anche lui creator, abbiamo fatto diverse cose insieme anche su questo canale, super esperto di contenuti. Vediamo come se ne è cavata, quante ne ha indovinate. Cliccate il video. Grazie a tutti.